Buonasera da FamilyTG, approfondimento a cura di federanziani. In Veneto è partita una nuova iniziativa per abbattere le liste d'attesa. Ospedali aperti di notte per permettere ai cittadini di effettuare rapidamente gli esami diagnostici. Una rivoluzione civile contro il problema cronico delle liste d'attesa. Ospedali aperti in via straordinaria anche di notte, dalle 20 alle 24, per effettuare gli accertamenti. A dare avvio a questa novità è stato il Veneto, che dal 1 settembre in diversi ospedali di Verona, Padova e Vicenza offre la possibilità di fissare appuntamenti diagnostici fino a mezzanotte. Perciò TAC, ecografie, risonanze magnetiche e elettrocardiogrammi si possono prenotare senza dover saltare la scuola o prendere permessi dal lavoro. Sono già migliaia le prenotazioni e i test per un totale di 300 ore di prestazioni specialistiche in più ogni mese. Per tenere gli ospedali aperti anche di notte, la Giunta regionale ha messo a disposizione 26 milioni di euro per nuove attrezzature e 30 milioni per le retribuzioni dai medici volontari. Il tutto per snellire le lunghe liste d'attesa, pensando a riparti come la radiologia a Vicenza, da tenere aperti 24 ore su 24. Secondo l'ultimo rapporto Censis, in Italia circa 12 milioni di persone si rifugiano nella sanità privata per gli accertamenti diagnostici perché i tempi in quella pubblica sono troppo lenti. In media sono 58 i giorni che un paziente deve aspettare per un esame, ma quella introdotta in Veneto non è l'unica iniziativa per ottimizzare la sanità pubblica. In Lombardia, già dal 2010, molti ospedali offrono servizi serali e notturni, nei giorni feriali e nei weekend, mentre la conferenza Stato-Regioni sta pensando di estendere la sanità by night a tutta Italia. Stoppa la donazione di sangue per 28 giorni in 6 regioni per il rischio di contagio per la febbre del Nilo. Il provvedimento è stato adottato dal Centro Nazionale Sangue per i donatori che hanno già soggiornato o passeranno le vacanze tra il 1 luglio e il 30 novembre nelle aree dove si sono rilevati i contagi dal virus. Le aziende farmaceutiche non sono le più amate del web. Pochi clic per i produttori di farmaci e le aziende di medical device. Gli internauti italiani sembrano non amare le pagine web delle aziende farmaceutiche e quanto emerge da un'indagine svolta nel primo semestre 2013 da un mensile del settore. Tra blog, social network, conversazioni sui forum e ricerche sui principali motori di ricerca, gli italiani in rete parlano poco del settore farmaceutico rispetto ad altri comparti industriali. La ricerca ha analizzato il traffico online generato in Italia di 70 aziende farmaceutiche, tra quelle nazionali e straniere, e dei principali produttori di dispositivi medici. La ricerca ha rilevato che il posizionamento delle aziende del farmaco nei dibattiti online è poco significativo se confrontato con altri segmenti merceologici. In rete si discute di farmaci e dispositivi medici con un atteggiamento per lo più neutro e distaccato. La ricerca suggerisce un adeguamento a nuove responsabilità e a nuovi linguaggi che vadano incontro agli interessi dei cittadini sia in termini di maggiori informazioni che di supporto alla fruizione del prodotto. Da settembre è scatato il triangolo nero sui farmaci sorvegliati speciali. I prodotti di nuova emissione in commercio e quelli già commercializzati a partire da gennaio 2011 dovranno porre sulla confezione il simbolo per segnalare la necessità di maggiore attenzione nella prescrizione e nell'utilizzazione. In Italia gli obesi sono 6 milioni, ne abbiamo parlato con il professor Marcello Lucchese presidente della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche durante il convegno su obesità e chirurgia bariatrica a Roma. Una malattia cronica invalidante che l'OMS ha definito una vera e propria epidemia. L'obesità in Italia mette a rischio la salute di almeno 3 persone su 10 e allo Stato costa circa 88 miliardi di euro ogni anno. Nei casi più gravi, dieta, esercizio fisico e farmaci, non bastano a perdere peso e per 1.500.000 pazienti italiani diventa necessario l'intervento chirurgico. Professor Lucchese, come può la chirurgia moderna essere d'aiuto a risolvere il 60-80% dei casi di obesità grave? Dunque, la chirurgia ha molti mezzi. Noi possiamo operare questi pazienti che sono malati di obesità grave, quindi di malattia grave, per intenderci pazienti che hanno almeno il doppio del peso che dovrebbero avere, per intenderci, o hanno associate malattie importanti, diabete, ipertensione, problemi articolari, problemi sul metabolismo dei grassi, eccetera, facendo varie tecniche chirurgiche che si basano su due principi fondamentali, o restringere la possibilità di alimentarsi, quindi restringendo lo stomaco, per dirla in termini semplici, oppure impedendo l'assorbimento degli alimenti, quindi lavorando più sull'intestino che non sullo stomaco, oppure entrambi, ci sono tante tecniche a disposizione. L'importante è che un team esperto multidisciplinare, fatto da tanti specialisti, non solo dal chirurgo, lavorino intorno a questo paziente, perché è un impegno molto grosso, perché questi pazienti vanno seguiti per tutta la vita. Bisogna che queste persone, questi specialisti, valutino il singolo paziente, capiscano quale tecnica è più adatta a questo paziente, in base a tante valutazioni che noi facciamo, e poi, dopo fatto l'intervento chirurgico, lo continuiamo a seguire per tutta la vita e cerchiamo di risolvere il problema, non solo del peso che è in fondo il problema minore, ma quello di risolvere tutte le patologie associate che rendono l'obesità una malattia grave. Questo era l'ultimo servizio. Prima di salutarvi vorrei ricordare Silvano Rizza, l'ultimo necronista di razza morto ieri a 90 anni. Ha dedicato la sua vita al giornalismo e all'etica. Il suo insegnamento continua. A domani.